Oggi verrà tagliato il nastro alla panchina rossa. Sì, la panchina rossa ha questo simbolo che è contro la violenza sulle donne, soprattutto per ricordare che non deve esserci una violenza in confronti delle donne ma anche degli uomini. È un progetto che si inserisce in un progetto complessivo della regione Veneto, è stato finanziato il progetto presentato dall'Auser regionale per cui oggi 12 ottobre in tutto il Veneto si inaugureranno le panchine rosse. La panchina è una panchina con una scritta importante, la scritta importante verrà scoperta fra breve appena arrivano i ragazzi delle scuole. Abbiamo affisso sulla panchina la targhetta che riporta tutti i partecipanti a questo progetto per cui la regione, l'Auser Veneto, l'Auser Provinciale, l'Auser Comunale con l'Università Popolare e il Comune che è un partner nostro. Altra cosa che c'è è il numero nazionale che è 1522 ed è il numero da chiamare in caso di bisogno per l'antiviolenza. La panchina è stata scritta, l'omaggio che ci ha fatto dall'artista che ha prodotto per noi il murale sul muro vicino al municipio ed è Alessandra Carloni che è un artista a livello nazionale, una grande pittrice e soprattutto una grande produttrice di queste opere. Mastodontiche, l'ultima che ha fatto a Napoli erano 11 metri per 15. Un murales che verrà scoperto anche questo a breve. A breve, poi passeremo a vedere e avrete modo di vedere la grande opera che ha fatto la Carloni che questa mattina non è qui con noi perché è ad Ariano di inaugurare l'altro murales che ha fatto in provincia di Rovigo. Grazie mille. Grazie a voi.